Siamo allo stand di Orente con un'azienda livornese produttrice di apparecchi acustici e l'unica azienda italiana presente a questa conferenza sul lago di Como Hill 2016. Daniele Piccini è responsabile commerciale, quali sono i prodotti che avete portato e comunque come vi presentate verso un pubblico così internazionale come quello di questa conferenza? Ecco, noi siamo qui per la prima volta a questo congresso e abbiamo avuto molti contatti con molte persone di tutto il mondo un congresso molto frequentato da persone estere e molti portolini che sono stati interessati ai nostri prodotti diagnostici che presentiamo qui per la prima volta perché fino allo scorso anno ricevamo soprattutto apparecchi acustici. Da quest'anno abbiamo una nostra linea di prodotti diagnostici presentiamo in anteprima qui due nuovi prototipi uno relativo alla detenzione del flesso stapediale e l'altro un prodotto vibrotabile preimpianto ormuleare. La platea dei presenti ha valutato molto interesse ai nostri prodotti e siamo contenti di quello che abbiamo raggiunto in questo momento. Ecco, dal punto di vista della caratteristica italiana, dell'identità italiana cosa pensate di portare che magari in altre parti del mondo non c'è? Certo, la nostra vocazione principale è sempre stata di portare la nostra idea il nostro made in Italy anche in questo settore che fino ad ora non vedeva nessuna azienda italiana soprattutto dell'attiva al discorso parecchio acustico. Noi abbiamo tentato di portare un po' di italianità in questo settore che ormai è dominato quasi esclusivamente da punti nazionali nord-europei e americani. Bene, con lei c'è Francesco Paganelli che rappresenta la nuova generazione per Orentec essendo il figlio del presidente dell'azienda. Quali sono le caratteristiche che ritieni tu come giovane dell'azienda di poter ereditare e di conseguenza anche di poter portare avanti in uno sviluppo ulteriore? In pratica è una bella domanda perché più che altro io quello che sto imparando o quello che sto facendo è grazie a mio padre e cercherò ovviamente di seguire i suoi passi e portando in un futuro, cercando di portare al meglio l'azienda e sempre dallo stesso punto di vista che abbiamo ora.